Oggi faremo un viaggio alla scoperta della cottura a vapore con bimbi. Il principio della cottura a vapore è quello di far bollire un liquido per generare vapore. Sarà questo vapore che farà cuocere il cibo senza entrare in diretto contatto con l'acqua. Quali sono i benefici di questa cottura a vapore che riusciamo a creare con bimbi grazie al Varoma? I sapori dei cibi cotti a vapore non saranno mescolati e quindi rimarranno anche più intatti i cibi stessi. I cibi saranno, qualsiasi cosa cuciniamo a vapore verrà un po' più morbido e quindi all'interno sarà veramente soffice che sia il pane, che sia anche un dolce. E la cosa più importante secondo me è il fatto che gli elementi nutritivi, i principi nutritivi vengono mantenuti, non saranno dispersi. Ogni volta che con bimbi all'interno del nostro boccale cuociamo una zuppa, una minestra, uno stufato, abbiamo la possibilità comunque di integrare anche il Varoma in modo da cucinarci anche un'altra pietanza. Grazie alla modalità guidata che troviamo all'interno della Cookidoo abbiamo la possibilità di trovare tantissimi ricettari e tantissime ricette ideali per la cottura a multilivello. Quando nel monitor del bimbi scriviamo come parola chiave Vapore o anche Varoma e clicchiamo su Cerca, all'interno del monitor troveremo tutte le singole ricette, 743 risultati trovati come in questo caso, solo per la parola chiave Varoma che prevede l'utilizzo del Varoma, quindi per la cottura a vapore. Se da qui, anziché ricette, clicco su Collection, faccio una ricerca mirata per ricettario, non per singola ricetta. E qui all'interno trovo tantissimi ricettari tematici, dove all'interno ci sono ricette che prevedono l'utilizzo del Varoma. Lo stesso posso fare scrivendo la parola Vapore anziché Varoma, anche in questo caso 859, in questo momento perché sono in continuo aumento queste ricette che prevede la cottura a vapore. Allo stesso identico modo, cliccando su Collection, troveremo dei ricettari tematici ideali per la cottura a vapore. Io vi consiglio questo ricettario, la magia del vapore, che è veramente eccezionale e completo, che esiste anche in formato cartaceo. Grazie al Varoma abbiamo la possibilità di cuocere su quattro livelli, per cui all'interno del boccale io ho già una prima cottura. Grazie al cestello posso cuocere all'interno del boccale e impilando i vari pezzi, così come vi sto facendo vedere, posso andare a cuocere altro all'interno del recipiente del Varoma e anche nel vassoio del Varoma. Cottura multilivello, quattro livelli di cottura, tutti impilati così, nello stesso momento e nella stessa ricetta, volendo anche sperimentare, potete anche giocare e inventare ricette, sempre risparmiando tempo, grazie a questo sistema di cottura. Questo ci permetterà non solo di risparmiare tempo, perché ho la possibilità di cuocere primo, secondo e contorno contemporaneamente, ma anche di mangiare sano, anche perché la cottura a vapore ci permette di esaltare anche gli aromi naturali, ad esempio una carne, un pesce o delle verdure, a volte nella carta forno e cotte, come previsto in tante ricette, all'interno del Varoma, mi permette, grazie al vapore, di esaltare gli aromi naturali. Questo non solo ci permette di mangiare sano, ma anche in modo gustoso. Inoltre ci sono tante ricette che prevedono l'utilizzo del Varoma per cucinare, ad esempio, una carne, un pesce o delle verdure. Essendo forato sia il recipiente che il vassoio del Varoma, ovviamente se vado a mettere delle verdure o della carne, degli straccetti di pollo o delle sogliolette di pesce all'interno del vassoio o anche del recipiente, essendo forato, colerebbero tutti i liquidi di cottura, che non è un male, anzi, se io ad esempio all'interno del boccale sto cuocendo un sugo di pesce, questi liquidi di cottura mi andranno a insaporire anche quello che sto cuocendo all'interno del boccale. Quindi me lo renderà indubbiamente più gustoso. Ma se io invece questo non lo desidero e quindi voglio mantenere i sapori ben distinti, posso utilizzare all'interno del Varoma dei fogli di carta forno. Ecco, io utilizzo questi dell'azienda già pretagliati, ma qualsiasi foglio di carta forno può andare bene. I fogli di carta forno che mi permettono di isolare gli odori sia dal vassoio del Varoma al recipiente o anche dal recipiente al boccale. Questo ci permetterà di scegliere, a seconda dei nostri gusti, a seconda delle nostre esigenze, di quello che ci piace creare, divertirci con la cottura anche sana e gustosa. Tante di queste informazioni vi saranno date se siete già clienti dalla vostra incaricata. Se ancora non lo siete, state pensando ad acquistare un Bimbiti M6, iscrivetevi in privato e cercherò la soluzione migliore per voi. Iscrivetevi al canale. Spero di aver chiarito a tante persone che mi hanno chiesto cosa significa la cottura a multilivello e come si cuoce a vapore con Bimbiti. Ci sono anche dei ricettari cartacei, oltre ad avere tutto nel mondo Cupidu, o attingere ai miei video che spero vi piacciono.